Si cerca in tutta la Valle di Chiana ma per adesso senza alcun risultato. Gli inquirenti stanno setacciando l'intera vallata alla ricerca della vecchia Fort Fiesta Bordeaux, a bordo della quale si sono dati alla fuga i banditi che hanno rapinato, picchiato e legato la coppia di anziani di Palazzuolo, rubando poi proprio dal garage dell'abitazione presa d'assalto l'automobile. La terribile vicenda risale alla notte tra il 10 e l'11 marzo, quando tre rapinatori entrarono nell'abitazione dei due anziani coniugi, Dino Maggi, di 85 anni, e Anna Ronad, di 81 anni. I banditi picchiarono, legarono e poi chiusero dentro un armadio le due povere vittime con dello scotch alla bocca e portarono via 700 euro in tutto tra soldi, catenine e tre fucili e l'auto del marito, quella Fort Fiesta, che ancora stanno cercando gli inquirenti. In quella zona però non ci sono delle aree video sorvegliate che possono dare qualche indicazione in più agli inquirenti. Le prime telecamere si incontrano verso Castiglion Fiorentino e le immagini sono già al vaglio degli inquirenti, che starebbero però valutando anche le immagini degli ingressi in autostrada. Grazie 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 Grazie